su questi aspetti. Poi c'è stato l'Open D'Arra Day, dove ci sono stati molti protagonisti, tra cui Transition Italia, il sindaco di Magione, con una persona che sono venuti a visitare ma ci hanno dato la predisposizione del loro logo, il preside della nostra scuola e questo i protagonisti, intanto le protagoniste e poi il protagonista di questa giornata fantastica. Sono appena usciti, abbiamo ascoltato un'altra scuola prima di poter uscire dalla sala consigliare e l'intervista a caldo, allora come vi siete sentiti? Oggi eravamo spessatissimi, però alla fine non ce l'abbiamo fatta. Allora, Giulia, dimmi, come ti sei sentita anche tu? Eravamo nervosissimi, avevamo paura ogni cinque secondi che si spengeva tutto oppure che succedeva qualcosa come l'imprevisto della mappa. Certo, come l'imprevisto della mappa. Sono imprevisti che servono. Rimani Elisa, allora Lorenzo, com'è andata? Impressioni? Bene, mi è andata bene, è un'emozione forte, però gioia tanta. Cioè, dici di più di questa emozione forte, di questa gioia tanta. Di più, al inizio ti vieni un po' a tremarella, tutta l'agitazione, ma poi dopo è una grande soddisfazione.